Ma sì, questo è chiaramente motivo di soddisfazione perché i ragazzi stanno segnando tutti, stanno segnando forse più dell'anno scorso, non lo so, il campionato penso di sì, forse nel globale l'Europa League, il coefficiente di difficoltà era più leggero. E quindi è motivo di soddisfazione o mi fatto in una stagione chiaramente nettamente più difficile, perché riuscire a rimanere a altri livelli non era scontato. Invece noi abbiamo fatto gli stessi punti dell'anno scorso, questo ci dà soddisfazione nel giro e nel ritorno, mi sembra che abbiamo fatto gli stessi punti anche della Juventus. È una soddisfazione sicuramente, poi si sa che nel calcio non c'è mai da accontentarsi e bisogna proseguire, fare un grande finale di stagione e poi tirare le somme e vedere qual è la classifica definitiva.